Trovarsi di fronte dopo sei mesi di mandato in una pandemia, credo che per un amministratore anche di quelli che erano ormai consolidati sia stato molto difficile a poter portare a compimento tutto quello che era previsto in quel periodo. Renzo Carraretto, sindaco uscente di Caser, si ripresenta per il secondo mandato con l'obiettivo di portare avanti i progetti mensi in cantiere rallentati qui come altrove dalla pandemia prima e dalla crisi energetica internazionale poi. Il suo è uno dei pochi nomi riusciti a mettere d'accordo senza troppa fatica tutto il centrodestra. Probabilmente me lo merito perché mi sono comportato bene, ma lasciamo così, puntini puntini. Battute a parte, dice Carraretto, è stata la reciproca collaborazione di questi anni, vedi ex caserma Serena, a creare il terreno giusto per ottenere la fiducia dei partiti. Non a caso i responsabili elettorali d'area qui sono il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera per la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia, sempre a Treviso, Guido Bertolazzi. L'ho sempre trovato benissimo perché abbiamo condiviso una linea che non era una linea oltransista di un determinato tipo, ma anzi è stata una linea assolutamente vedendo di risolvere il problema più che di enfatizzarlo. È un insieme di persone assolutamente motivate, intelligenti, con lo stesso obiettivo, persone per bene soprattutto, quindi qui proprio è stata la cosa più semplice. Sulla stessa linea Forza Italia. Casier è un comune a misura di cittadino, ha dato un ottimo peso a quelli che sono in servizio alla persona ed è fondamentale. A sfidare Carraretto è l'avvocata penalista Roberta Canal che ha lanciato nelle scorse settimane la lista Progetta Casier, ma Carraretto si è avvicinato in questi anni anche chi non ti aspetti, come l'ex sindaca del Partito Democratico Miriam Giuriati. A Renzo Carraretto in questi cinque anni ho fatto il consigliere di minoranza, mi ha piaciuto. Ma la troveremo in lista? No, per ora dovete chiederlo al sindaco.